Primo giorno di scuola per gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Manzoni di Mistretta. Oggi per loro è suonata la campanella. Il primo giorno di scuola è sempre un evento particolare. C'è chi inizia per la prima volta questo nuovo ed interessante percorso e c'è invece chi con questo anno lo concluderà. Ad ogni modo tutti insegnanti e studenti sono colmi di entusiasmo e buoni propositi. Certo non manca una buona dose di ansia ma si sa è normale quando si intraprendono nuove strade. Questa mattina per l'occasione la nuova dirigente scolastica la professoressa Virginia Ruggeri ha voluto accogliere gli studenti e i genitori dei quattro plessi come auspicio per un anno intenso di conoscenza, di studio e di tante belle attività da fare nell'ambito del circuito scolastico. Un augurio a tutti per un anno ricco e pieno. Grazie per il benvenuto. Io sono veramente felice di trovarmi qua in questa scuola perché anche se ci sono ovviamente delle problematiche comunque comuni a moltissime scuole devo dire che l'organizzazione è buona e che i ragazzi veramente sono contenti di venire a scuola, i professori sono eccellenti e soprattutto quelli che sono qua da tanti anni e certo c'è una componente dei docenti che si avvicina ogni anno perché mi strette zona di confine diciamo per la scuola e tuttavia io spero di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati anche dalla regione cioè aumentare il numero di alunni e per fare questo metteremo in atto una serie di iniziative che coinvolgeranno alunni e territorio e auguro con l'occasione a tutti gli studenti dell'istituto superiore manzoni quindi sia mistretta sia santo stefano sia caronia di iniziare con serenità e con entusiasmo il nuovo anno scolastico in bocca al lupo